Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, è la realtà che supera ogni immaginazione. Uno stabilimento abbandonato a se stesso, una cassa integrazione a go-go, quindi riduzione del personale sia per quanto riguarda la produzione sia per quanto riguarda, e questo è gravissimo, la manutenzione. Un governo che non risponde, che dire, il Barcelormittal e la città di Taranto abbandonati a se stessi? Sì, abbandonati a noi stessi con tra l'altro un atteggiamento secondo noi completamente sbagliato del governo che ci ha completamente, non solo abbandonato, ma consegnato nelle mani di una multinazionale che sta facendo il bel e cattivo tempo. Voi pensate che settimana scorsa centinaia di lavoratori hanno ricevuto lettere senza data di cassa integrazione, si va avanti così da mesi, ci prendono, lo dico anche pure in giro, da un lato gente in cassa integrazione, dall'altra il capo del personale che si fa la fotografia in barca a vela e dice Taranto ti amo tantissimo, qua la gente non può mangiare, questa è la realtà. E soprattutto si è innescato un meccanismo molto pericoloso, perché ad oggi noi non abbiamo notizie certe rispetto a quella che è la trattativa tra il governo e Barcelormittal. Lo voglio ribadire, lo ricordo a me stesso, questo era il governo del cambiamento, quello che doveva avere a che fare con il popolo, doveva coinvolgere il popolo. Ad oggi purtroppo questa condizione non c'è. Fortunatamente, come dire, ci siamo decisi e oggi è un primo step per arrivare poi giovedì mattina a Palazzo Chigi, in presidio permanente, per dire stop, apriamo la trattativa, ma la trattativa parte dalle esigenze dei lavoratori, non da quelle della multinazionale. Significativa, l'abbiamo sottolineato, è l'unità delle forze sindacali, si è tutti su una barca che purtroppo, evidentemente, qualcuno vuole affossare. Ma è chiaro che le divisioni poi indeboliscono la massa dei lavoratori e favoriscono i potenti. Diciamo che noi ci abbiamo messo due minuti a fare sintesi e dobbiamo continuare ad andare avanti così. Questo presidio è solo l'inizio di una lunga serie di iniziative, lei ha menzionato giovedì l'incontro, il presidio, il sit-in sotto Palazzo Chigi, l'autoconvocazione. Non è l'ultima, allora qua io la dico così, non voglio fare il drastico, qua anche a costo di andare a prendere i politici casa per casa, ci devono dare risposte, perché qua si muore, c'è disoccupazione, c'è l'appalto tra l'altro, che è composto da ragazzi dai 25 ai 30 anni, che rischia il collasso, noi abbiamo oltre 2.000 persone anche dell'appalto che stanno a casa da mesi, c'è una condizione che è la peggiore delle peggiori. E ribadisco, la cosa grave è che il governo continua a fare in esclusiva una trattativa tra l'altro con un soggetto, parliamo della Morselli, cioè uno che è arrivato a Taranto, ha licenziato le persone semplicemente perché denunciavano la sicurezza, mette in cassa integrazione e tra l'altro si prende anche il gioco delle istituzioni, dei sindacati e dei lavoratori. Quindi per noi è basta, è stop, da oggi inizia la rivoluzione al contrario. Per concludere, dicevo, solo per miracolo non si sono verificati eventi, tragedie, incidenti nello stabilimento, per pura casualità. Con graveste la responsabilità del gestore, di Arsene Ormittal, ma anche del governo, perché anche qua non lo si dice, la stampa non lo dice, c'è stata la gestione commissariale che ha inviato i tecnici dentro, che hanno fatto una relazione. A me risulta che in quella relazione si è scritto chiaramente che da quando è entrato Arsene non si è fatto nulla e la cosa grave è che il governo rispetto a quello doveva intervenire e ancora non l'ha fatto. Cioè, la dico così, ci stanno usando come cavie, tanto se muore un lavoratore tarantino, come dire, nessuno ne parla. E questa è la cosa grave e credo che noi abbiamo l'obbligo di reagire. Forse è peggio dei Riva, che è tutto dire. Sì, quantomeno con quelli litigavi. Ti dicevano che era così, c'era un minimo di dialogo, con questo manco ci parliamo.